Il prossimo! Piacere, ottobre. Non me lo dica, il forno sempre acceso. Esatto, dottore. La bolletta è sempre una sorpresa. Non cambiare abitudini, cambia fornitore. Con l'offerta luce 12 di Dolomiti Energia, quello che consumi in 12 mesi lo paghi in 12 rate tutte uguali. Offerta consumo soggetta ad adeguamenti con guaglio finale. Dicembre, non me lo dica, gli addobbi di Natale. Scopri di più negli Energy Point e su dolomitienergia.it Grazie a tutti.